Ciao dolcezze, ciao ragazzi! Buon Natale! Eccomi qui con un nuovo... Giggio! Oggi, io e Mina, volevamo farvi gli auguri di buon... Natale! Sì! Abbiamo fatto cambio di cappello, comunque auguriamo un buon Natale e un fantastico 2015! Buon Natale! Buon Natale! Ah, sta ripetendo! Sì, sì, sì! Ecco, a voi e alle vostre famiglie vi mandiamo un bacio grande, grazie per questo 2014... Ciao! Grazie per questo 2014 insieme, è stato strepitoso e ci teneva appunto a partecipare a questo video anche mia, visto che da un po' che non ve la facevo vedere, e nulla, vi auguriamo buone feste con tutto il cuore e ci vediamo nel prossimo video! Un bacio grande! Ciao! Ciao! Dò un bacio a mamma! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.